Allora, ciao a tutti, buona giornata, buona giornata, bentornati sul mio canale, benvenuti qua su Pirata. Quest'oggi il vlog, come potete vedere, è indoor, non è outdoor, sono anche un po' magagnato, quindi devo un po' preservarmi per l'appuntamento di domenica e qualcuno già lo vedo domani, per cui avrò un weekend, non so se nel weekend riuscirò a fare il vlog, per cui non mi dispiace, non ve la prendete, vediamo quello che si può fare. Siccome sono arrivati i soliti criticoni, adesso vi faccio vedere una cosa, è giusto, insomma ogni tanto però è anche giusto che chi di voi mi segue con passione e con affetto sappia come funzionano le cose, sappia la fatica che c'è dietro a fare i video e sappia anche come io utilizzo i caffè che mi offrite e quindi c'è bisogno di molti caffè per andare avanti e migliorare la qualità. Attentato che sto girando il video con l'iPad, quindi uno degli strumenti che utilizzo e quindi ne manca uno, però insomma questa è l'attrezzatura base con cui io faccio i video. Questa è la più nuova ed è quella che vedete il vlog alla mattina e eccola qua ed è quella che ovviamente ha migliore qualità, ha migliore qualità, due cavalletti che solitamente utilizzo, però ha grand'angolo e al buio non funziona bene, come vedete anche adesso il video avrà una grana, questo perché tutte le questo è il vecchio smartphone Android con il quale faccio le dirette e questo è il mio smartphone attuale, che però è una versione più anzianota degli iPhone. e qua abbiamo l'altra camerina, il mio problema sono le riprese non all'aperto ma in questo momento al chiuso e comunque siccome lavorerò la notte dovrò dotarmi di uno strumentino da avere sempre con me, quindi uno smartphone che mi permetta di fare buoni video anche con poca luce così da poter mantenere un certo ritmo nei video che vi propongo, quindi cari miei polemici, quelli che sono venuti a dirmi eh ma la qualità al buio c'è la grana, se volete contribuire in descrizione c'è la Paypal, contribuite al raggiungimento della cifra data, prenderò uno smartphone adeguato, via che dobbiamo superare almeno le mille euro, per cui questo è cari criticoni, questa comunque è l'attrezzatura che io utilizzo solitamente, questa è l'iPad con cui stavo facendo le riprese fino a un attimo fa, ed ecco gli manca l'iPhone che lo sto utilizzando, quindi questa è l'attrezzatura, vedrete già la differenza di qualità tra il video fatto con l'iPad e adesso con l'iPhone, se anche è una versione e non recentissima, un paio di versioni fa, e quindi servirebbe in effetti un'attrezzatura un pochino migliore. Appello qua mancano i microfoni, ne ho alcuni per l'Android come avete avuto pensare nei vari test, abbiamo questo, questo microfono qua, questo microfono qua, che è un microfono wireless, e quindi va bene, poi ho i vari microfoni a cavo e cavetto che voi vedete spesso, a volte mi vedete utilizzare anche l'ancora più vecchio iPhone, anche se è tenuto bene, ma è vecchissimo, questo invece è proprio rotto non funziona, e qua abbiamo la lente grandangolare, e dovremmo avere uno dei microfoni, eccoli qua, uno dei microfoni, c'è il microfono collegato al computer, che però non è abbastanza potente per fare editing video, che faccio con l'iPad. Ed ecco che vi ho fatto vedere grandemente l'attrezzatura che oggi sto registrando tutto senza microfono, perché sono qua dentro e ci dovrebbe sentire bene. Allora, si servirebbe dell'attrezzatura un pochino più all'avanguardia, che permettesse di fare dei video migliori. Fra le altre cose, cosa interessante, sul primo canale ieri YouTube mi ha attivato la sessione podcast. Allora, podcast che si fanno già, si potevano fare già normalmente su YouTube, perché non sono altro che dei video col microfono dove si parla, e anche qua verranno trattati come tali. Però perché hanno creato un'appoglita sezione podcast? Quello che tutti i creator sperano, non è ancora ben chiara sta cosa, e che il podcast voi possiate ascoltarlo anche a schermo spento, quindi se vi mettete lo smartphone in tasca e avete le cuffiette, potete ascoltarlo. Inizierò, non so se oggi o domani avrò tempo di farne uno giusto di test, e quello potrò farlo lì, come avete visto, al computer, anche se la webcam non ha una grande qualità, ci sarà sempre questo, vedete questi puntini che vedete anche qua, perché li vedo già a schermo adesso, che è proprio perché queste camere qua hanno poca, servirebbe un faro cinematografico, una luce spaziale per non avere questi puntini, oppure serve uno smartphone di ultimissima generazione. E l'obiettivo sarebbe quello, perché poi facendo giorno e notte, giorno e notte, dovrò per forza una parte dei miei video girarli la notte, nelle ore di attesa, di pausa, che ho magari sul lavoro, perché ogni tanto farò la ronda e ogni tanto sarò fermo con i monitor, e finché controllo i monitor posso anche chiacchierare. Quindi userò molto probabilmente questa opzione, che c'erano porca, spero che me li attivino presto, anche qua sul pirata, che potrebbe essere interessante per entrambi i canali, più degli short, per quello che mi riguarda, perché non faccio intrattenimento, nel senso di cose carine che si possono spiegare in un minuto, anche se qualche short lo dovrò fare, proprio per non essere penalizzato da YouTube. Anche aggiungere una cosa, che ovviamente non utilizzando anche lo smartphone normalmente, come fanno tutti, un po' di messaggi, qualche foto, qualche video, social, così, ma utilizzandoli in maniera intensiva per video, fa il video, riprova, lo cancella, lo rifallo, cioè veramente stressando tantissimo, dura meno della metà di un terzo, lo che dura alle persone che ne fanno un utilizzo normale, cioè nel giro di un anno, un anno e mezzo, li bruci sicuramente la batteria e anche un po' il processore, perché lo utilizzi veramente sempre a manetta, come dire, sempre di corsa, per cui anche gli smartphone mi durano veramente poco. L'altro canto è questo, è il volerli utilizzare anche come cam a tempo pieno. Torniamo sull'iPad così vedete la differenza. E quindi la differenza, eccola qua, vi stavo dicendo appunto che speriamo dai che queste cose si combinino, faciliterebbe molto il mio lavoro. Ripeto, oggi, cioè domani, e dopo domani vediamo se riesco a farvi un vlog, sarà un po' difficile visto in molti impegni le persone che inizieranno già domani a fluire, a trovarmi, per cui con cui dovrò, a cui dovrò dedicare del tempo e non me ne vogliate, non è per trascurarvi, ma ovviamente sono occasioni nelle quali si può avere un contatto umano, anche per me è molto piacevole, che non fa sempre a distanza, così per cui c'è da dedicare un pochino di tempo. Porterò qualche altra novità, però questo video, scusatevi, ogni tanto qualche sassolino dalla scarpa, sono un essere umano anch'io, anch'io devo tirarmelo via, quindi la qualità è questa, chi critica, ma anche gli altri, chi vuole aiutare, sappiate che c'è la Paypal, c'è la possibilità di offrire qualche caffè e qualche caffè di qua, qualche caffè di là, chissà che non arriviamo alla cifra per l'acquisto di un'attrezzatura un attimino più performante. Tra altre cose volevo ringraziare tutti quelli, adesso la lista dei nomi lunghissimi, che ogni tanto mi offrono appunto il caffè, che qualcuno che ha fatto qualche offerta, anche un pochino più grande, che mi aiutano a coprire quelle che sono le spese, tra cui adesso vedremo appunto se un abbonamento a Telegram Prime o a qualcosa per poter portare qualche contenuto extra, come già sto facendo sulla parte abbonamento su youtube primo canale Ermano Azzolini. Questa cosa è sempre non tanto per attingere a denari di voi che mi seguite, ma è tanto per scremare un po' per, come dire, obbligare a chi è interessato a fare un minimo di sforzo e lasciare fuori dalla porta quelli occasionali che passano, criticano e vanno via. Lo sapete benissimo, ne abbiamo parlato migliaia di volte, se fosse un sistema gratuito e sicuramente appena riuscirò a intivarlo, utilizzerò questo. Ciò non toglie che di solito dei sistemi gratuiti per l'utente sono a pagamento per invece chi è diciamo per il creator, perché oggi si usa chiamarli così, youtuber, creator, chiamatelo come volete, e quindi e comunque ci sarà un piccolo obolo da dare, qualsiasi sia la tecnica al sistema, come abbiamo fatto già su Google Meet e di cui vi ringrazio, abbiamo potuto fare l'abbonamento di un anno e lo stiamo utilizzando in quella maniera. Questa settimana ovviamente non ci sarà Google Meet, passeremo alla prossima, vedremo se riuscirò a fare una diretta, a me piacerebbe anche farvi vedere un pezzo dell'incontro, però non tutti sono favorevoli a farsi riprendere, per cui anche lì vedremo un po', magari riesco a raccontarvi facendovi vedere dalla parte di là o solo me stesso qualche qualche momento di questa giornata o di queste due giornate, perché ripeto già domani avrò qualcuno di voi qua. Bene, per oggi è tutto, spero di essere, di aver chiarito i meccanismi, le cose e come quello che utilizzo, così che voi lo sappiate, per quello che mi riguarda ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao! 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 Grazie a tutti.